Eroi Ma gli attrezzi da soli non possono risolvere tutti i problemi Certe cose sono impossibili da riparare Non basta aspettare la fine della battaglia per aggiustare le armature e fasciare le ferite Se riesci a combattere al loro fianco può impedire che gli eroi tangano colpiti E magari proteggerli anche da loro stessi Sono Brigitte Lindholm e sarò il loro scudo